E buongiorno a tutti, o anzi buon pomeriggio, ormai sono le 11 in questo nuovissimo video di Fortnite Stiamo entrando ufficialmente per la primissima volta nella stagione numero 8 di Fortnite Andremo a vedere tutto il pass battaglia completo Forse ci siamo, forse no Ho fatto un piccolo fail qualche secondo fa perché mi è uscito l'interrogazione del profilo non riuscita Quindi vediamo un pochino se riusciamo ad entrare ufficialmente nella stagione di Fortnite Mi raccomando se shoppate il pass battaglia con il codice creatore lucius con 3s Taggatemi su Instagram, TikTok, Telegram, Discord, tutti i link in descrizione Forse ci siamo ragazzi, ci siamo, let's go, ci siamo Ok, qui c'è il trailer che è già uscito sul canale, qui pure il pass battaglia è uscito Ok, abbiamo appunto la ciurma, che sarebbe presumo la credit forfeit Sono tornate le schede punti, sono tornate le schede punti Lasciate un bel pollicione ragazzi, come dice Immortal e tutti gli altri Condivisione in carico, questa c'era già Stelle pass battaglia, DP giun cartoglio Questo è figo ragazzi, questa è una nuova funzione molto carina Eccolo qua ragazzi, il pass battaglia della stagione numero 8 Allora, io mi sposto un attimo ragazzi perché almeno facciamo una roba molto più carina Mi sposto leggermente e partiamo subito a vedere tutto il pass battaglia Let's go ragazzi, mi sono spostato qui sotto, abbiamo tolto la chat Scusate a tutti quelli che ho scammato Eccoci qua ragazzi, allora innanzitutto andiamo a shoppare il pass battaglia No, cosa che altre informazioni Vabbè, andiamo prima a vederlo Abbiamo icona standardo, giustamente Abbiamo un bellissimo coricino nero Un demoni, guardatevi le spalle La skin di Charlotte ragazzi, questa è una delle più belle skin Allora, così secondo me Non è chissà cosa Ma così ragazzi, ma con uno stile che adesso vi farò vedere È veramente stupendo Poi la camp che se ne va nel mentre che registro è veramente top Dunque, V-Max Dolce decorativo inchiostro Avrebbe in questa prima pagina la possibilità di sbloccare addirittura due skin Quindi, cartonio, cartonno, cartonno Questa ragazzi, questa skin qua Avrete la possibilità di personalizzare in una maniera assurda Allora, vediamo se si può shoppare il pass Che almeno vi faccio vedere subito il coso Non me lo fa shoppare Vediamo, esamino oggetti o 1000 V-Bucks 11 al mese Ah, unisci dalla ciurma Forse 11 al mese O 11 euro per la crew di Fortnite Ok ragazzi, abbiamo scoperto che bastava riavviare il gioco Per appunto ottenere il pass battaglia Così almeno vi posso far vedere subito tutte le skin Quindi, confermiamo l'acquisto ragazzi Andiamo a shopparci il pass battaglia della stagione numero 8 Era un piccolo bug che era successo E abbiamo come primissima skill la Charlotte Gagliardissima 5 stelle del pass battaglia molto Gagliardi Quindi, dobbiamo prima Ah, possiamo sbloccare subito questo in teoria Però, dobbiamo appunto avere 9 stelle Dunque ragazzi, abbiamo appunto tutte queste belle cose come prima pagina Andiamo a vedere la seconda Abbiamo V-Bucks Attenzione il cartondo Abbiamo Vandante del viceverso I colori Batticuore Questo che è molto interessante Veramente bello Laba stermina deboli Vela cetacea Figo Vedete parlato del cartondo Cene di fuoco Forgiato a mano Emote ragazzi Stupenda Questa emote ragazzi Adesso vedrete perché È figa Guardate qua ragazzi Io non dico niente Ma mamma mia che skin Questo è lo stile ragazzi Uno degli stili Insieme appunto Della skin appunto di Charlotte Stupenda ragazzi Fatemi sapere qui sotto i commenti Che cosa ne pensate Sia del pass Sia di questa skin qua Perché guardate che spettacolo Devastante Devastante Una delle migliori secondo me Con il cino nero Intanto un saluto alle macchine che passano Isola cartona In colla stendardo Quando vuoi Andiamo un po' Ok Va bene Quando vuoi Giustamente il tempo Quando aspettiamo qualcuno Lama di fuoco demoniaco Demoniaco Non demoniaco Pesca rossa Strimpella Dunque finiamo praticamente Con la pagina 3 Il set di Charlotte E di cartondo 100 V-Bucks E andiamo alla pagina 4 Dove incontriamo Per la primissima volta Core Eccola qua Anche lei avrà degli stili Che sbloccheremo più avanti Che vedremo tra pochissimo Avremo il deltaplano pilota Di campo OI Abbiamo la cassetta Degli attrezzi di Core Che sarebbe il deck Della season scorsa Quello qua dove irrapiva Il rapitore Flagelli di Core V-Bucks Grafico realtà Altri V-Bucks Spray Sticker E andiamo alla pagina 5 Quindi abbiamo Schermata Questa qui Iniziano ad introdurre Gli animali Ragazzi A quanto pare Come potete vedere Abbiamo Fabio Foltachioba Che non so cosa c'entri In questa stagione Numero 8 Di Forfeit Ma va bene comunque Abbiamo lo stile Appunto il cappotto Di Core Che non è affatto male Abbiamo una nuova bot Manicure Molto carina Molto carina Molto carina Scia di cereali Molto molto Gagliarda Abbiamo il cucchiaio grande Ok Ok Copertura Compre il baleno E con la standard Infine il backlink Unicorn Unicorn Flakes Bella Abbiamo Questa emote Molto Gagliardissima Fabiali Saporite Ok Core Grigio Tatico Quindi il terzo stile Di Core Avremo poi Evento criniera V-Bucks Abriga sciolta Ok Fiocchi di qui No Fiocchi di qui Sì E infine Blark Un emoticon Molto carina Molto carina Ragazzi Molto carina Vediamo poi Con la standard Piccone Affittrafici solare E ora iniziamo a entrare Nel Abbiamo finito Giustamente con la pagina 6 Fabio L'abbiamo visto Il Fabio In versione In versione dorato Eh Bello 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 Ripeto Non so cosa c'entri Ma è bello Allora Spray Ecco qua la skin Schimpansky Molto carina Molto carina Soprattutto perché Ha degli stili Veramente carini Che riprendono La season 4 Astronauta Anzi la season 3 addirittura Scienza missilistica E c'è il missile Ragazzi Non vorrei dire Ma forse quello Della stagione 4 Sembrerebbe Programma spaziale Per primati Mini rover Ok Carina Per lo spazio V-Bucks Nanametro Che è il bagbling E orizzonte Scimpanzè Poi passiamo ragazzi Alla pagina 8 La terza ultima Di questa stagione Numero 8 Però avremo le extra Che adesso andremo a vedere V-Bucks Cubi corrotti Thorin Carica zainofibra Spettatore spettrale Lama leggera Di Thorin V-Bucks Thorin L'abbiamo appena vista Dimensione del pericolo E mimetica dimensionale Purtroppo ragazzi Non Ah si Posso scorrere i modelli Almeno Posso almeno scorrere i modelli Non male Non male Non male Infine Abbiamo Come penultima pagina Esattamente Lo stile Dello scimpanzè Nebulosa rosa Abbiamo lo stile Traslazione Viceversa Questo è figo Ragazzi guardate Stile joy Che faceva così Joy nella season scorsa Invece adesso Abbiamo la traslazione Al cubo Giustamente Stasison è Incentrato sul cubo E giustamente Ci mettono le coperture Del cubo E tutto il resto Poi abbiamo Supersite Spray Emoticon Poco della scimmia Fubox E infine ragazzi Come skin Della stagione Numero 8 Livello 100 Avremo Carnage O meglio Andiamo a vedere Eccolo qua Visualizza l'incompensa Eccolo qui Non mi ricordo cos'è Ma è comunque una roba Che c'entra con Venom Let's go Let's go E l'ultima pagina È tutta dedicata A Carnage Come potete vedere Abbiamo il piccozzo Veramente carino Messo proprio anche sopra Appunto al coso Alla sua mano A parte questo Che non c'entra nulla Ecco qua Abbiamo anche un po' Di scimpanse Eccetera 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 No scusate Stavo sbagliando completamente Ecco qua Scia viscerale Spray Emoticon Stendardo Dunque ragazzi Queste sono tutte Le ricompenze Di questa stagione Numero 8 Del pass battaglia Al momento Non ci esco Ah ok Guardate A livello 89 Oppure ricompense Aspettate Raggiungi il livello 90 Per sbloccare la pagina nuova Riscatta ancora 89 Ricompense Ok ok Allora bisognerà raggiungere Il livello 90 Oppure il livello 89 Oppure sbloccare 89 Ricompense Per sbloccare una pagina successiva Che ci darà accesso Ai vari stili In più Dunque ragazzi Questo è il pass battaglia Se lo shoppate Mi raccomando Utilizzate il codice Creatore Lucius Nel negozio Oggetti di Fortnite Mi raccomando Con 3s E niente raga Dunque Ci vediamo Tra pochissimo Tra qualche Oretta Anzi minuti Con i video Delle sfide Giustamente Della settimana Numero 1 Avremo ragazzi Ecco qua Vedete queste sono le pagine Ancora giustamente Non sappiamo Cosa ci sarà Ma sarà la regina Di cubi Quella che avevo Lickato un botto Di tempo fa I bonus ragazzi Sono questi qua Però non abbiamo Urca bilurca Qua abbiamo i bonus Ovviamente Che sono praticamente Le pagine Degli stili Maximum Abbiamo qui Carnage Maximum Abbiamo qui Carlotte Charlotte Anzi Spirito Brandelli Abbiamo Chiacchiere da Cartondo Che questo fa schifo Corro Prendatici Del viceverso Abbiamo poi Schipanzè Superficie Lulare E armamento Elite Per il resto ragazzi Dovremmo sbloccare 109 ricompense 114 E 119 ricompense Per sbloccare le altre Dunque ragazzi Questo è il pass battaglia Completo Andiamo a vedere Anche l'acqua di forte Ma vabbè L'abbiamo già vista Era questa qua Non abbiamo più niente La regina di cubi Sarà la skin segreta Di questa stagione Numero 8 Dunque raga Io spero che questo video Vi sia piaciuto Ripeto Se shoppate Codice Credo di annuncio Se andiamo a sbloccare anche Del dubbio 100 Fubax Tac Così per parlare random Ragazzi Un bacione grandissimo Noi ci vediamo dunque Tra pochissimo Con i video delle sfide Beh ragazzoni Vi voglio bene E grazie a tutti quelli Che ci sono stati Anche in live Ovviamente Fino adesso Perché questo video È registrato in live Beh ragazzoni Un bacione grandissimo E noi dunque ci vediamo Esattamente In un prossimo video Paralile Tra pochissimo ragazzi Con appunto i video Delle sfide Ciao ragazzi Un bacione grandissimo Ci vediamo Ciao Ciao